Grazie a tutti. La voglia se non altro di raccontare come stanno le cose in modo che comunque una verità che non è raccontata rimanga in qualche modo accessibile a quelli che vogliono capire, a quelli che vorranno capire in futuro. È un documento che secondo me è importante avere anche perché è un documento che poi serve, è utilizzabile dalle persone, fa discutere, fa capire, aiuta magari in futuro a comportarsi in modo diverso. Ho pensato proprio a lei ieri ascoltando le notizie sulle calamità naturali del Veneto e del Nordeste, a suo parere sarà la nuova mano di Dio per il nostro Presidente del Consiglio? No, direi che ormai il meccanismo per fortuna è svelato e queste sono al contrario, l'idea che possiamo perdere anche Pompei, per fortuna è un ulteriore punto a sfavore di questo gruppo.